Ecco qua, tornati a casa, primo oro 2021 dello Spaccaossa, petri interessanti, sembrano granati, questa trasparente verde deve determinare che cos'è, la sua trasparenza che mi intriga, una bella schaglietta, vediamo se riesco a scurire l'immagine, perci l'immagine, il mio dito di Paragono, è una bella schaglia, un paio d'ora, tanto freddo, niente canaletta, torneremo con una canalina, canaletta per lavorare più sedimento, un po' stare interessante, l'anno è cominciato bene.